Silenzio! Ed ecco qua un make up ispirato ai colori dei tramonti estiti ai colori e un po' meccanico dai, fallo tutto più morbido ai colori, ai colori solo che hai detto colori ed ecco a voi un make up ispirato ai colori dei tramonti estiti quando dice i colori, fallo vedere con le mani no, fai vedere i colori, cioè mostralo con le mani, fai qualche cosa ripeti, ripeti ed ecco a voi un make up ispirato ai colori dei tramonti estivi giusto il dito più dolce con la mano va bene ed ecco a voi un make up ispirato ai colori dei tramonti estivi carino no, va bene di nuovo poi vabbè, infatti lei può interagire no, lei fa quando ho chelino no no ho chelino no